Sì, Presidente, questa mozione voleva solo impegnare Sindaco e Giunta a chiedere l'applicazione della legge 13 del 2019 sulla dichiarazione delle aree a rischio in merito agli ultimi interventi che si sono ritenuti opportuni nelle aree di Roma maggiormente soggette ai roghi dei rifiuti. Quindi in particolar modo chiediamo l'applicazione delle aree a rischio numero 13 sia per la Valle Galeria, per il TMB Salario, per Roccacencia, per Centocelle, Castel Romano, Laurentina e tutti gli altri territori interessati ai roghi. Soprattutto questa è una mozione che viene dopo i roghi particolarmente importanti di quest'estate, su cui poi ci sono stati anche alcuni interventi, soprattutto attorno a Monte Stallonara, sempre nei prestiti della Valle Galeria. Quindi è una mozione molto semplice, chiede appunto l'applicazione della legge 13 che si applica semplicemente con una richiesta della Sindaca, volendo anche in Regione. Quindi ne conseguiranno poi tutte le analisi necessarie sulla caratterizzazione dei terreni e su eventuali azioni di bonifica dei territori.